primo dicembre 2023 in diretta dalla lacina con il vostro gij guardate porcini ecco qua guardate che bel porcinazzo e ne abbiamo trovati già una decina adesso continuiamo a salire guardate ancora quanti porcini abbiamo trovato oggi primo dicembre 2023 e chiudiamo questo video dei funghi porcini da questa meravigliosa porzione tra elce della vecchia e la lacina con questi colori attunnali che si perdono nell'anima un saluto a tutti da ggj